Ma come licenziato? Così, dall'oggi al domani. Chi sono questi nuovi padroni? Guido Saraceno. Quello che ha comprato la squadra di calcio. No! Ronaldinho, non lo voglio! Quello c'ha i denti davanti, le pare in cavatappi! Che ce ne devo fare con Ronaldinho? Bisogna pensare positivo! Ma questo è Saraceno. Dalla mia villa a Charme Shake al Coral Bay con la mia bella moglie. Charme Shake. Belli o brutti che siano i massaggi? i pacchetti hanno tutti un'altra cosa in comune. Sono tutti bastardi. Ora arriva il difficile. Ali, va va! E non mi tocca che mi attacchi la povertà! Presidente, eh! Solo una parola, un momento sì! Chi non lavora, non va a lavori. Ditta canzone! Facciamo che si arriva a dieci, eh! Ma non va a rullare! Sta tranquillo, tu, eh! Ho perso il bracciale con i diamanti che mi hai regalato! Ci penso io, signora! No, ho detto... Non mi tocca a bocca, subito! Ma si è fatto male? Speriamo di no, che almeno non muoia entro oggi. Oddio, si sente male! Oddio, mamma, sei morta! Mi ha fatto pian corpo! Mi posso pian corpo! Tu marito ti lascia sempre sola? A me muoio, dove sta? Ma no, 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 come ci buono! Non mi ha letto, senza sesso. Poco, poco, poco! Alla faccia degli uomini che pensano tutti alla stessa cosa! Al calcio! Ma chi va a guardare? Grazie, mi portate bene! Ciao! Andiamo a fare tucca-tucca! Quello di Raffaella Carrà! Ma che fai, d'occhio? A me il sesso che mi ha rovinato! La mancanza del sesso! Oddio, è morta, mamma! Dile la verità che volevi acciuffare l'eredità. Io all'eredità... Ci stavo a pensare, dire la verità. Vabbè, ma se avete i soldi state a ostia al mare, no?